bella ragazzi, io sono SimoGamer ragazzi, oggi siamo in gomiglia di matchlock ragazzi oggi andiamo a fare questa mappa, che è la mappa di Fortnite, però piccolissima ragazzi e ragazzi, abbiamo deciso di fare, che le regole sono che abbiamo trovato dei cringers e ci dobbiamo killare solo con le cringers ragazzi, così per esempio, ok per esempio ora lui mi prende i muoi naturalmente, ok, e che altro è kill, ok, però dai, ok, però allora tu quando che stai così normale, una, una, ok allora perfetto, si sta allora ancora 3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2, 1, vai ancora infeldera 0 Sì, ti attacchi in volo tipo L con il piede. Ah, non so, non mi posso muovere! No! Quanto? Eschere! No! Te l'avevo pure attaccata! No! Una attaccata! Sì, addio! Addio! Gordo! Mi sta a 2 e 1 giusto? 2 e 1! Sì! Sì! Come sei? Dov'è? L'arrivo per il muovo! Volevo a terrare il pommano! Eh! Oh! Me ne savi per attaccare! No! No! Ma cosa? Ti attaccato? Ti attaccato? Nella testa no! No! Poi stai attaccato proprio nella testa! L'hai visto? Ma questa valle che gli dott... Hai visto che hai fatto scuote da te! No! No, qui c'è! Ne avete proprio gillare! No! No! Oh, non ti vincere, non ti vado! Nooo... Beh, ragazzi, è questa la seccatura, che ti credo, ma ne vada solo. Infatti, ora c'è 3-1. Non è tassata? Eh... Nooo... Ma perchè mi devi fare suscitare? Non voglio farmi responare! È che... E che le chiedono, non te la dà! Se diamole qui la posta, io devo uscire il volo. BASTA! Nooo... E poi io di nuovo, ragazzi. Hai visto il 5-5? Beh, io ho una! Ancora? Che è 2, perchè al lì ci devo uscire il volo. Allora... Ma per quanto, Tommaso? È il volo! Vabbè... Vabbè, vabbè, l'ho fatto, non l'ho visto. No, ma tutti gli alberi in tutti i tempi! Nooo... Oh, mamma mia, non è che l'ho attaccato! L'ho attaccato bellissimo, tipo, tu hai salto in diagonale e l'ho attaccato a cloud. Nooo... Dove sei? Ma dove sei? Nooo... Nooo... Che culo! Nooo... Che culo, amore! Nooo... Che liscio! Questa mappa è piccolissima! Cioè, più oltre... Ci mettevo londanissime, potremmo essere 10 metri! Nooo... 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 Non lo so che io si è esplodata dall'altra parte! Ma poi ti batteremo se non hai fatto un'altra parte! Eh, sì, perché... Eh, sì, perché... ...è un'altra parte... Dove sei? Sottotitola... No! Come? No! 10! Senta... Oh! 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 Ma non è vero! Io te l'avevo attaccata! Forse l'avevo attaccata! Sei morta la tua! No, no, no! E sei morta la tua! Ma che sfiga! Oh! Sto volando! Sto volando e cazzo! Ora ti ha rotto! Dai, ora non è giustino quattro kill! Perché te l'avevo attaccata! Ah! Che culo! E che cazzo! Sì! Nooo! Non ci credo male! Sì! Sì! Il permesso è stato fermo e li vuol bere! Sì! 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 Nooo! Sì! Te l'avevo attaccata a caso! Vada la testa! Ma neanche si vedeva perché era di fianco! Comunque ragazzi, il codice della meppa la vedete qui sopra! Sì! Se la volete giocare! Sì! 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 Proprio da toccato. E' divertente, perchè la gente era giocata nella popola non c'è che guarda al mio cani Si è divertente, però con le cringers è sempre divertente E vabbè, dai! Come l'hai detto?